Siete quei ragazzini? Quelli che sono spariti? Senti, non so come sia possibile che tu sia qui. Questo è il mio sogno, mamma. Mi serve una mano. Ti prego, aiutami a ricordare l'uomo che ha preso mio fratello. Se te lo facciamo vedere, tu che cosa ci dai? Qualsiasi cosa. Tutto quello che volete.